notiziate notizie da nuvate, bollate, garbagnate, baranzate, cezzate e limbiate oppure Castellabate Castellabate dov'è? Castellabate è un piccolo comune italiano di 8.644 abitanti se ti interessa della provincia di Salerno in Campania ma pensa sai che cosa hanno fatto a Castellabate hanno girato benvenuti al sud il film è presente con visio ecco lì ed è molto bello c'è il mare pensa avere un ate col mare che figata è stupendo se guardate le foto è uno spettacolo chi è che è stato a Castellabate un ascoltatore sì sì due ascoltatori sì sì vabbè torniamo nei nostri ate senza mare siamo tornate facciamo tutte in ate sappiatelo e siamo tornate possiamo cominciare con bollate allora subito così pronti via che rubrica allora possiamo cominciare con la nostra rubrica classica giungla metropolitana e nonostante questo nonostante questo clima freddo esatto adesso poi aspetta perché Brambilla non so è tornato dalle vacanze vediamo vediamo se oggi riusciamo a raggiungerlo comunque a prescindere da questo clima bollate e senago sono ancora infestati dalla dengue no ricordiamoci che quest'estate anche novate è stata infestata dalla dengue sì cosa è successo e niente l'11 settembre il sindaco ha trasmesso appunto questo comunicato in cui una lavoratrice bollatese residente in un altro comune ha contratto un'infezione sempre esterna da importazione sempre da importazione probabilmente contratta all'estero sono intervenuti con l'eliminazione dei focolai per un raggio di 200 metri da dove sono manifestati casi di contagio e quindi c'è stata una disinfestazione straordinaria tra bollate e senago ricordiamo la dengue che cos'è è una un'influenza un'influenza che si contrae con la puntura di zanzare infette perché la dengue è portata anche dalla zanzara tigre che è quella che abbiamo anche qua esattamente vabbè comunque insomma non non si placa noi sappiamo che poi con quel clima che abbiamo le zanzare ce le troviamo pure dicembre poi volevo dire di questa cosa qua quando era successo a novate siccome la disinfestazione si fa nel raggio di 200 metri poi c'era un sacco di gente che diceva vabbè ma le zanzare volano no allora io ho letto ero andata a leggere perché anch'io mi sono fatta la domanda perché 200 metri perché è stato stimato che le zanzare volano al raggio al massimo di 200 metri sono stanziali quindi nel senso che non ce la fanno probabilmente a ogni animale al suo raggio d'azione ecco così hanno stimato poi io nel senso non so mi attengo a quello che leggo infatti il problema è tanto la zanzara che è quello che viene punto dalla zanzara che poi si muove da un altro perché l'uomo invece fa più di 200 metri quindi ragazzi se siete infetti da dengue state ne a casa va bene e quindi abbiamo cominciato la nuova stagione con la giunga metropolitana ma questa stagione si apre con dei casi della nostra rubrica un'altra delle nostre rubriche preferite mistero mistero bello bello aprire con mistero la stagione vediamo allora ce ne sono ce ne sono due una sempre a bollate sì allora è mistero del muro di terra cioè praticamente è comparso questo muro di come cosa vuol dire così muro di terra che cosa succede accanto a viale lombardia punto di domanda chi percorre viale lombardia da bollate verso senago dopo aver passato il sottopasso della ferrovia e la prima rotonda all'incrocio con via san pietro andando avanti si trova davanti a un vero e proprio muro di terra che è stato realizzato nel mese di agosto cioè ce l'hanno fatta mentre eravamo in vacanza hai capito con tanto di escavatori che vi lavoravano accanto ci saranno dei lavori no infatti non lo so e camion che fanno avanti e indietro chissà perché movimentazione terra il primo pensiero che sorge dice vedendo tutta quella terra movimentata è che si stiano scavando le fondamenta per qualche grosso insediamento edilizio nuovi capannoni o nuove case ma poi attenzione è lì scattano il sereo è tutto è tutto congettura a pensarci bene viene in mente che quei terreni rientrano nel parco delle groane quindi dove è ormai impossibile quasi costruire o quasi di che cosa si tratta dunque la risposta in realtà è semplice sono i termiti non sta nascendo nessun nuovo insediamento edilizio quella terra che si vede accanto alla strada arriva dagli scavi per le vasche di laminazione del seveso era facile ecco che stanno nascendo a senago per realizzare le vasche occorre scavare magari una notizia di mezza pagina comunque poi dice ma la terra poi dove viene messa e appunto non lo so viene spostata nei terreni adiacenti tutto il terreno che si trova a nord dei viali lombardia risulterà più alto di circa un metro rispetto a come la prima resta tuttavia un dubbio attento prima quei terreni erano coltivati dopo questo innalzamento fatto di terra ma anche di molti sassi dato che in profondità c'è terreno alluvionale che viene rimosso per fare le vasche sarà ancora coltivabile o avremo tolto un altro pezzo di suolo all'agricoltura e finisce così e niente quindi non è un muro state tranquilli non vogliamo fare un muro tra bollate e senago è solo un lavoro di scavo e state tranquilli non c'è nessun progetto di muro di divisione ma anche a baranzate c'è mistero e il caso si intitola vedi che ci siamo quasi mattonelle calcinacci cadono tra virgolette dal cielo due punti paura paura allora praticamente venerdì 6 settembre intorno alle 21 è accaduto un episodio sconcertante che hanno denunciato alcuni condomini di via monte cassino 10 stavano cenando nelle loro abitazioni quando improvvisamente hanno sentito alcuni forti colpi provenire dal giardino che cosa era successo secondo quanto hanno potuto ricostruire qualcuno aveva lanciato delle mattonelle in granito da uno dei balconi del palazzo di via acquileia però sembra dei dolmen sembra enormi sono enormi sono tra l'altro ficcati verticalmente per terra potete vedere la foto nel se comprate notiziale potete vedere la foto foto di questo di questo è gigante non immaginate di mattonelle piccoline proprio sarà meno 50 centimetri anche di più ma no sì ma penso di più guarda questa albero e dice alcune mattonelle unite a calcinacci hanno colpito il tetto del palazzo altre sono finite sui balconi e altre ancora sono frattumate al suolo sono tantissime ma una si è conficcata per diversi centimetri nel terreno per fortuna a quell'ora non c'era nessuno in giardino altrimenti avrebbe riportato gravi conseguenze no vabbè però non si può e quindi niente finisce così la notizia non si sa chi ha lanciato questo mistero 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 allora se qualcuno sa chi ha lanciato come sono cadute invita sempre la relazione se qualcuno lo sa ci scriva novate podcast lab chiocciola gmail.com bene bene vale allora cosa beh iniziata bene anche quest'anno iniziata bene perché va beh ma ancora la notizia di punta di questa settimana ce l'abbiamo ancora non l'abbiamo detta non l'abbiamo detta ma la diciamo immediatamente sì che è la rubrica esoterismo allora chi è mirtilla mirtilla sembra mirtilla malcontenta di harry potter è presente si chiama così per quello per quello dici e penso di sì e quindi cosa è successo è successo che si era persa una gatta come tante no è successo tante volte cioè ci sono sempre queste notizie su sei di nomate milanese se o sei di bollate se eccetera perso gatto aiuta questa volta però cosa è successo cosa è successo è intanto dove è successo cesate a cesate non nominiamo mai invece vedi esoterismo mirtilla è una amicia una splendida amicia di razza british bianca con striature grigie che era scomparsa quasi da un mese lasciando la giovane coppia nel dolore però loro non si sono arresi no hanno sono andati avanti vai vai i due non hanno smesso di cercarla al punto che hanno provato persino a rivolgersi a una medium sì per cercare di ritrovare la loro gattina utilizzando un drone con telecamera termica che hanno fatto volare sopra la zona di cascina selva dove la gatta era scomparsa ma a quanto pare la svolta sarebbe arrivata proprio dalla medium che vedeva tra virgolette mirtilla attenzione in un terreno all'interno di un piccolo gruppo in compagnia di altri gatti ci voleva la medium per dirci che probabilmente si accompagnava da altri gatti comunque una specie di colonia felina non lontana dalla zona e infatti nel tardo pomeriggio di sabato questa coppia si reca in un terreno lontano non lontano da casa loro e una volta giunti è bastato chiamare mirtilla ed è corsa fuori dal gruppo dopo un mese dopo un mese mirtilla però poteva telefonare far sapere che era viva invece no c'è voluta la medium adesso ci sarà scatta cioè tutti quelli che perdono i gatti adesso vanno dalla medium sì ma i commenti anche sono interessanti perché questa notizia è stata appunto commentata anche sul notiziario e una risponde io credo molto nella medianità e nell'esoterismo rubrica esoterismo non mica peraltro la chiamiamo così e quindi dice solo così no l'altra dice i gatti sono molto empatici e collegati con energie particolari è per quello che ha fatto bene a chiamare per quello funziona cioè se tu avevi chiamato la medium per i cani non avrebbe funzionato perché non sono contatto con energie particolari è molto interessante dice comunque forse capacità della medium è una dice però forse è una delle opzioni più probabili che il gatto vada con altri gatti comunque è un buon consiglio ma ce n'è tanti di commenti è stata molto commentata sì ma comunque tanti sono diciamo fatto bene addirittura c'è ha fatto pubblicità perché uno dice in privato si può sapere chi è la medium sì certo adesso vanno tutti dalla medium no ma poi in realtà risponde la persona che ha trovato questo gatto perché magari qualcuno diciamo ha storto un po' il naso cioè dicendo vabbè ma dai ma scusa e lei ha detto guarda che abbiamo cercato nelle colonie feline non è che siamo e però nel momento in cui ce l'ha detto la medium proprio l'abbiamo ritrovata capito c'è in quel momento lì eh sì quindi e niente quindi anche questa stagione si apre con una notizia veramente dal mistero all'esoterismo sì fantastico poi cosa abbiamo abbiamo la rubrica la rubrica interessante sì a volte ritornano a volte ritornano quasi due metri d'acqua nel sottopasso beh due metri sono tanti eh due metri sono tanti due metri due metri a neghi è certo due metri non è possibile c'è scritto quasi due metri quasi vediamo quante piscine eh ma neanche la piscina è alta due metri vediamo quante piscine va bene dai vediamo dice eh l'ennesimo riempimento io dico non funziona cioè fate qualcosa tra l'altro è la varesina cioè non è una sottopasso non è la stradina di campagna dove non passa nessuno eh ha provveduto a bloccare l'accesso al sottopasso beh meno male gli operatori hanno presidato il sottopasso evitando che qualche automobilista imprudente e inosservante ah perché alla fine se vai sotto il sottopasso con due metri d'acqua sei tu che sei imprudente è colpa tua capito come donne che si mettono a minigone è colpa è colpa tua è sempre tua cioè sei tu io dico ma non li vedi due metri d'acqua esatto cioè la macchina è più bassa cioè non riesci a entrare sei imprudente e sei anche inosservante della segnaletica ok segnaletica eh sì c'è scritto e questo questo sottopasso si allaga frequentemente allora resta però la domanda perché questo sottopasso si allaga così spesso mistero è un mistero esatto eh perché eh basta finisci così allora se qualcuno sta perché possiamo chiedere al nostro prossimo filosofo no perché non è ingegnere perché si allagano i sottopassi certo allora hanno dovuto uscire da abitacolo due due coniugi sul cofano hanno dovuto uscire sul cofano c'è scritto così come si può dire si può dire hanno dovuto uscire dall'abitacolo sì che si stava riempiendo d'acqua perché questi due coniugi evidentemente sono entrati e imprudenti e inosservanti sono entrati e la macchina è rimasta lì in un sottopasso e beh certo gli hanno presi hanno presi ovviamente i vigili del fuoco che poteva essere anche pompieri sotto l'albero in realtà la rubrica di oggi allora praticamente è la rubrica di questa settimana che ha regalato tantissime emozioni è un pompiere sotto l'albero torna è tornato al Natale ormai manca poco allora cosa è successo due grandissimi interventi di pompieri allora il primo è di quelli che i pompieri cavolo non vivevano l'ora di farlo esatto primo è le cade il bancomat nella grata no vabbè i pompieri risolvono certo chiama i pompieri è certo 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 allora ma nella grata dove? magari è entrato nella fogna non c'era più no a bollate guarda si dà anche la foto dei pompieri al lavoro ma tu demi se devono perdere tempo così comunque una giovane cassinanovese di 19 anni vittima di una curiosa disavventura curiosa è curiosa fermatasi alla tabaccheria di via Veneto per acquistare le sigarette le sfuggiva dalle mani il bancomat che è caduto nella grata antistante l'esercizio che io dico ma perché mettete le grate dove ci sono le cose automatiche dove mettete le tessere io comunque adoro questi giornalisti che riescono a incuriosire con queste notizie essendo la grata saldata e non sapendo come reperire qualcuno per accedere alle cantine del palazzo della cooperativa edificatrice la ragazza richiede l'intervento dei vigili del fuoco dopo quasi un'ora aggiungevano i pompieri di Garbagnate reduci da un ben più gravoso intervento che con grande abilità provvedevano con pinze giganti ad allargare una delle fessure metalliche e poi con un lungo spago calavano un ferro a cui era stato avvolto del nastro adesivo ma questi sono geniali facendo girare rendendolo biadesivo così è stato possibile raggiungere il Bancomat sul fondo in cemento hanno messo tipo un adbiadesivo hai capito? geni sì geni dovremmo intervistarli così invece che chiamare i pompieri uno lo fa da solo eh esatto dovrebbero fare delle giornate di formazione formazione come recuperare Bancomat dalle grate dalle grate e poi ce n'è un'altra di notizia ben più poteva finire peggio forse potevamo fare la rubrica così poteva finire peggio eh potrebbe essere interessante potevi rimanere offeso esatto questo sicuramente questo bollatese poteva rimanere offeso meno male che sono intervenuti i vigili del fuoco bollate giustamente precipita dal balcone di casa salvo ma intrappolato che tu dici madonna una tragedia infatti non l'ho letta eh esatto invece no dovevi leggerla ok come ha fatto questo qui a precipitare dal balcone perché tu dici non è facile o ti butti giù oppure mi fai venire da ridere subito in una tragedia cioè non posso ridere però no allora praticamente siamo seri è un 46enne eh gli cadono gli occhiali allora per recuperare i propri occhiali che però gli sono caduti fortunatamente nel piano inferiore del condominio ok non spiega come ha fatto a far cadere non lo so magari sai ce li aveva sul naso un po' lassi è facile stava guardando giù pum gli sono caduti gli occhiali nel piano di sotto ok si era sporto dice si era sporto dal balcone però tu dici primo piano secondo piano no no sesto piano cioè dal sesto piano lui si sporge lui si sporge gli cadono gli occhiali al quinto piano nel balcone del quinto piano allora lui cosa vuoi che faccia prova a prenderli prova a prenderli lui dice sono qui sono sotto di me mi calo allora cosa succede che lui cerca di si sporge per recuperare i propri occhiali caduti nel balcone del piano inferiore nel gesto l'uomo ha perso l'equilibrio e stava per precipitare dal sesto piano quindi per degli occhiali ne vale proprio la pena ma la prontezza della fidanzata lo ha salvato in estremis prendendolo dai piedi alla fine l'uomo si è caduto ma è riuscito ad arrivare sul balcone del quinto piano e allora aspetta aspetta perché qui uno dice ma cavolo non poteva andare da quelli di sotto no e bussare e no perché il quinto piano a quel punto si è trovato in trappola perché il balcone è di un appartamento disabitato e quindi nessuno poteva farlo tornare in casa è per questo che lui si è esporto per prendere se no andava giù da suonare a suonare certo ma ne vale la pena esporgersi al sesto piano però i pompieri potrebbero insegnare a fare un ardeggio una pinza una pinza lunga per prendere gli occhiali caduti nel balcone sotto qui com'è finita sta storia sono arrivati i vigili del fuoco si sono calati dal sesto piano anche loro hanno raggiunto l'uomo metterlo in sicurezza altri colleghi posizionavano in via precauzionale il telo da salto e una volta raggiunto l'uomo i pompieri hanno aperto la porta finestra e la porta d'ingresso dell'appartamento vuoto riuscendo a liberare il 46enne quindi comunque hanno aperto delle porte cioè di fatto poi si arriva sempre allo stesso punto però hanno anche messo il salto bello quello lì bello cavolo un salvataggio proprio di quelli da film su questo sono intervenuti a buon cioè giustamente vi sono chiamati ecco diciamo quello del Bancomat invece insomma non calatevi dal sesto piano per favore cerchiamo di fare di trovare altri modi altri modi va bene adesso c'è il nostro meteorologo di fiducia che è tornato dalle vacanze per dirci com'è possibile che si è arrivato già l'inverno siamo in inverno quando è estate cosa sta succedendo allora sentiamo il dottor Brambilla dai buongiorno dottor Brambilla come va buongiorno Valeria buongiorno a tutti gli ascoltatori di notiziate rientro rientro col freddo a settembre a settembre eh sì questa settimana scorsa abbiamo visto che c'è stato un drastico calo delle temperature ma infatti cosa è successo tutti si chiedono cosa è successo è arrivato l'inverno prima una cosa che può succedere ogni 3-4 anni che ha che diciamo intorno alla metà inizio settembre ci sia questo quest'area diciamo di origine polare intrappolata proprio nei poli dopo tutta l'estate e da qualche parte venga riversata in questo caso è capitato che sia stata riversata sull'Europa centrale poi eh nella nostra zona meridionale quindi eh ha fatto sì che passassimo da temperature abbondantemente sopra la norma considerate che abbiamo vissuto quasi tutto luglio dalla metà di luglio e tutto agosto con temperature intorno ai 5-6 gradi oltre la norma ci siamo passati a qualche grado sotto la norma quindi è sembrato uno sbalzo enorme tranne che come al solito io ribadisco fa sempre più notizia un ago nel pagliaio che è un pochettino di freddo che la la vera notizia che è stata alla fine un'estate nonostante in giugno un'estate sì molto molto calda perché non ci scordiamo abbiamo vissuto 50 giorni con medie come dicevo prima tra i 5-6 gradi oltre la norma quindi ma invece la prossima settimana come 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 la vede eh dopo una una domenica eh con temperature quasi estive perché la domenica abbiamo arriveremo intorno ai 25-26 gradi avremo un lunedì eh abbastanza soleggiato anche qui con temperature tra i 23-25 gradi quindi eh direi assolutamente nella norma eh per essere metà settembre e e poi eh ci sarà invece martedì una nel gergo tecnico si chiama retrogressione questa eh questa perturbazione eh diciamo di origine polare che ci ha interessato la settimana scorsa è andata scivolando verso il sud Italia e poi come una pallina da da ping pong o ritorna indietro diciamo di di biliardo ritorna indietro e verso eh l'Italia centrale settentrionale i modelli fanno sempre fatica in questo caso a inquadrare bene la traiettoria quello che si sta è che molto probabilmente martedì martedì avremo dei rofesci nella soprattutto nella prima parte di giornata prima e anche primo pomeriggio di giornata con rovesci sparsi soprattutto a ridosso delle zone prealpine e delle alte pianure quindi anche la zona dell'alto milanese potrebbe essere interessata con questi rovesci poi quello che è un po' più ancora abbastanza non molto delineato poi nella giornata tra martedì diciamo la seconda parte di martedì e mercoledì come questa traiettoria sarà configurata quindi se toccherà principalmente l'Emilia Romagna o invece anche la Lombardia poi la seconda parte della settimana sarà comunque fresca perché questa retrogressione porterà in sé ancora un pochettino di aria fresca non così come quella diciamo di settimana scorsa che è stata appena passata saremo leggermente sotto la norma ma veramente si sta parlando di uno dei gradi sotto la norma è abbastanza asciutta quindi direi che un pochettino di nuvole quello sì ma direi che da giovedì in poi tra giovedì venerdì sabato domenica le piogge sarebbero spongiurate un pochettino di nuvole poi forse su fine settimana un po' più di sole temperature massime parliamo intorno comunque ai 21 23 gradi che ci stanno tutte ormai siamo nella seconda parte di settembre entriamo nella stagione degli sbassi termici quindi al mattino magari quei 9 11 gradi e poi al pomeriggio ti fa comunque quei 22 24 gradi che comunque se uno va in giro con il pieno solo è comunque una magliettina un golfino leggero si può stare si sta vabbè comunque abbiamo dato dei consigli di vestiario e quindi insomma anche questa settimana ricominciamo con la quarta stagione di notiziate quindi insomma possiamo dire agli ascoltatori che rimane con noi anche per questa quarta stagione tutte le settimane col meteo sì sì rimango con voi un appuntamento che mi piace perché c'è la possibilità anche di dare qualche spiegazione in più rispetto alle streaming site e previsioni meteo che la maggior parte delle persone vuole quindi se qualcuno vuole qualche approfondimento questo è il momento giusto le domande per il dottor Brambilla che è disponibile a rispondere e ovviamente noi ribadiamo che c'è anche il canale che poi dopo dà gli aggiornamenti quelli dietta tutti i giorni perché noi ci contiamo una volta a settimana poi tutti i giorni come ci insegna lei il meteo può variare bene allora la ringrazio e posso dire ci sentiamo la prossima settimana alla prossima settimana e grazie mille grazie il dottor Brambilla ne sa sempre una più del diavolo rubrica esoterismo anche questo potremmo chiamarla così e grazie il dottor Brambilla che anche per questa quarta stagione starà con noi starà con noi e ci delizierà con le sue chicche eh sì meno male perché se non avessimo Brambilla e ricordiamo sempre che c'è il canale che lui ci può dire anche come vestirci ah sì certo certo e poi c'è il CH Meteo che è il canale Whatsapp del dottor Brambilla che ci dà il meteo aggiornato ogni giorno se volete il link per collegarvi al canale scriveteci a novatepodcastab chiocciolagmail.com bene andiamo sugli eventi sì dai vi annunciamo che alla Bolla Teatro di Bollate inizia si prepara per la nuova stagione 2024-2025 con tantissime novità e spettacoli bellissimi e annunciano che a breve uscirà il programma quindi fate attenzione e seguite i social della Bolla Teatro per vedere tutto il programma della prossima stagione allora dal primo ottobre si apre la prima parte della rassegna di martedì al cinema del Teatro Splendor a Bollate i biglietti costano 4 euro senza tessera e con la tessera 5 euro quindi è un'occasione per andare al cinema a rivedere magari dei film o a vedere dei film che non abbiamo che magari non passano nei cinema e c'è anche il dibattito quindi molto interessante perché poi si discute dei film i film iniziano alle 21.15 a partire da martedì primo ottobre potete vedere il programma sul pagina del Cinema Splendor oppure sul notiziario poi abbiamo a Garbagnate due nuovi corsi di disegno e fumetto per i ragazzi dai 12 ai 18 anni ogni lunedì in biblioteca 10 incontri dal 23 settembre con le basi del disegno e dal 27 gennaio fumetto e manga bello ogni lunedì dalle 17 alle 19 la quota di iscrizione è 5 euro per modulo quindi molto economico e potete iscrivere i vostri figli sì all'associazione invece amici della biblioteca Villa Venina Novate ci sono gli ultimi posti disponibili per il corso avanzato di scrittura creativa nessuno nasce imparato si chiama bello quindi potete chiamare per iscrivervi il costo di partecipazione è 130 euro inclusa testa associativa e a partire è appena partito il corso del 13 settembre ma ci sono ancora dei posti quindi se volete iscrivervi chiamate l'associazione invece a Novate sempre al circolo sempre avanti è iniziato anche quest'anno il laboratorio di filosofia gratuito potete partecipare scrivendo al circolo è appunto gratuito e si tiene il lunedì praticamente ogni 15 giorni con la filosofa la grandissima filosofa Annalisa Cantù che tra l'altro lo sapevi che avevamo intervistato potete trovarla anche sul nostro podcast Novate e straordinari il 20 settembre alle 10 appuntamento con in biblioteca leggere in tutti i sensi una guida per genitori e futuri lettori tre appuntamenti per i bambini dai 3 ai 12 mesi contro successivo il 26 settembre ingresso libero con prenotazione obbligatoria attenzione informatevi in biblioteca bollate poi abbiamo pomeriggi creativi per pensionati attivi bellissimo nuovo appuntamento il 18 settembre e laboratorio per la creazione di fogli di carta acqua e stracci e fibre naturali così nasce la carta attraverso un laboratorio a due tempi verranno realizzati dei fogli di carta prossimo incontro il 25 quindi 18 e 25 settembre poi abbiamo nel carcere di Bollate il mercatino dell'usato il 21 settembre per Bollate In mostra mercato per conoscere il carcere il suo artigianato il cibo la cultura e la musica primo ingresso dalle 14 alle 15 il secondo dalle 16 alle 17 45 e dalle 18 alle 19 45 per partecipare iscrizione obbligatoria su catenaimovimento.com allora io volevo ricordare che all'hub di Novate ci sono gli sportelli over 60 su appuntamento di informazione e supporto dedicati ai cittadini over 60 gratuiti ovviamente poi c'è coltiviamo il divertimento con accesso sempre libero musica, giochi e attività per divertirsi insieme tutti martedì mattina a partire dal 3 settembre quindi è partito ma tutti martedì mattina alle 9.30 e poi c'è Family Hub 2.0 sempre su appuntamento un punto di riferimento per informazioni orientamento e supporto dedicato alle famiglie questo all'hub di Novate in Via Roma 2 quindi potete potete sentirli per prenotare i vostri appuntamenti poi abbiamo all'inviate corso di videomaker per ragazzi delle scuole medie Chuck si gira parte il 16 settembre quindi lunedì il 16 settembre rivolto ai ragazzi di scuole medie si terrà all'interno del teatro in Val Sugana tutti i lunedì dalle 17 a 19 fa concorrenza alla nostra filosofa a Pinzano fino al 31 marzo e al termine il progetto verrà realizzato un filmato che verrà proiettato al cinema Le Giraffe di Paderno che bella iniziativa poi abbiamo anche il corso di fotografia per sostenere Vario Pinto organizzato dal fotografo Michelangelo per sostenere Vario Pinto Vario Pinto è l'associazione che si occupa di progetti in Ruanda le elezioni che hanno un costo di 100 euro si terranno per 8 lunedì dalla luce al tempo al diaframma a tutti gli obiettivi chi fosse interessato si deve rivolgere a Michelangelo o Salerno c'è il numero di telefono che noi non daremo dai per la prima puntata della quarta stagione direi che siamo arrivate va bene già troppo va bene a presto a presto la prossima settimana certo ciao 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 ciao